Ci sono luoghi che svelano un mondo ricco di cultura e tradizioni. I sapori più genuini della nostra terra e tutta la passione delle specialità fatte a mano. Abbiamo viaggiato in ogni angolo d'Italia per selezionare con cura le perle del gusto di tutte le regioni. Nel mondo solotipico hai più di mille prodotti di qualità da scegliere online. Solotipico, solo il meglio dei sapori d'Italia. Da gustare comodamente a casa, con un semplice clic. Grazie.